Un orto franco alle noghere con serre avveniristiche per l'agricoltura verticale idroponica, cisterne dell'ex Aquila trasformate in batteria d'acqua in grado di produrre energia pulita, piste ciclabili, orti urbani e un lungomare accessibile ai cittadini. Lì dove si prospettava il laminatoio della Metinvest, progetto abortito dopo le proteste dei cittadini, ecco che si progetta una concreta svolta green. E' questo il senso del masterplan redatto dallo studio di architettura di Carlo Ratti, l'architetto italiano del momento, il più apprezzato in quanto a visionarietà per conto dell'autorità portuale che sta completando l'acquisizione delle aree delle noghere con i 60 milioni di euro votati alla trasformazione dell'area dove sorgerà in primisi il nuovo parcheggio su un sedime che verrà completamente bonificato, il tutto in collaborazione con il comune di Muggia e il Coselag. L'esempio simbolico di riferimento è l'Eden Project realizzato in Cornovaglia, un manifesto dello sviluppo sostenibile votato all'agricoltura di nuova generazione. Pratica l'idea quella di uno sviluppo di un cosiddetto orto franco, che è chiaramente un gioco di parole collegato al porto franco e quindi ci siamo resi conto che da un gioco di parole che poteva sembrare tra virgolette quasi scherzoso, invece sono venute fuori delle opportunità incredibili. Ormai l'agricoltura è probabilmente l'ambito, il settore in cui c'è più innovazione. Noi vogliamo essere appunto dei grandi sviluppatori del territorio in maniera sostenibile. Il master plan si dovrà tradurre ora in un modello di business vero e proprio, in grado di porre le basi per una gara di evidenza pubblica dedicata agli sviluppatori immobiliari. Quanto a chi potrebbe insediarsi ci sono già i primi concreti interessamenti. Si tratterebbe del primo sito al mondo di produzione agricola in zona franca, agganciata a una produzione di energia completamente sostenibile. Accanto spazi per gli orti urbani, piste ciclabili e giardini che ne farebbero, per usare un paragone nostrano, il porto vivo di Muggia. L'orto franco che per me dal punto di vista politico rappresenta un sogno che si avvera, una zona che potrà essere destinata a regime di porto franco con dei prodotti appunto, quelli realizzati su quella che è l'agricoltura sostenibile, è veramente una cosa di eccezionale portata per tutto il territorio, quindi non solo per Muggia ma per tutto il territorio circostante.